buongiorno allora oggi faremo una pasta con le lenticchie ci sono un po di lenticchie già cucinate tre spicchi d'aglio sei pomodorino pachino poi un po d'olio un po di perzemolo facciamo soffriggere un po l'aglio poi metteremo i pomodori li apriremo in quattro e poi aggiungeremo aggiungeremo le lenticchie un po d'acqua e poi metteremo la pasta ecco questa è una ricetta molto semplice pasta con lenticchie useremo della pasta piccola magari due due tipi diversi allora questa è la pasta che metteremo sono tre tipi di pasta tutte piccole qui ci sono le lenticchie e qui abbiamo messo già aglio i pomodorini prezzemolo l'aglio che abbiamo fatto soffriggere un pochino adesso aggiungeremo facciamo cucinare un po i pomodori gli schiacciamo magari un po e aggiungeremo le lenticchie e poi aggiungeremo l'acqua e quando l'acqua bolle metteremo la pasta le lenticchie sono a posto aggiustate di sale e un po di pepe e poi aggiungete quando bolle la pasta ok allora abbiamo aggiustato di sale e di pepe abbiamo aggiunto l'acqua adesso appena bolle mettiamo la pasta quindi assaggiamo solo se va bene ci mettiamo ancora un goccio di sale diciamo che il sale lo possiamo sempre mettere l'importante non metterne tanto appena bolle mettiamo la pasta e così poi ci facciamo facciamo l'ultimo video con la pasta impiattata la nostra pasta con le lenticchie pronta impiattata io ho messo un po di peperoncino e un po di formaggio parmigiano buon appetito a tutti